Ancora la residenza Cobani continua, i combattenti, i EPEG, anche i EPEG, ancora resistono per mandare via la banda criminale ISIS. Per questo anche in Italia noi pensiamo, anche il mondo non è solo Italia, però specificamente in Italia facciamo il primo novembre, tantissime manifestazioni, iniziative, diverse regioni in Italia. Speriamo che va bene perché questo momento, questo appoggio, molto importante per la residenza in Cobani. Quando si parla di ISIS viene in mente ovviamente la violenza e soprattutto le tragiche esecuzioni che si vedono. Per chi vive lì da vicino, come riescono ad organizzarsi in questa maniera? Quando vediamo ISIS non possiamo dire che è solo un gruppetto che è creato per combattere contro il regime di Assad, non è così. Prima sa anche era così, adesso invece il contrario, già loro controllano una parte di Siria, una parte di Iraq. L'ultimo punto è scelto chi attaccare la città Cobani. La città Cobani non è che è una città molto ricca, petrolio, strategico, non è così, però già lì i kurdi hanno creato un sistema contro il capitalismo, anche contro tutti quegli regimi, monarchia, dittatori, eccetera. Dove riescono a trovare così tanti soldi per organizzarsi? Non sappiamo ancora continuo quello finanziamento, appoggio o no, però prima avevano un appoggio molto forte, abbastanza un finanziamento e logisticamente anche Turchia è sempre appoggiata, tanti militanti di ISIS, dall'Occidente specialmente, sono passati su Turchia e in Siria. Per quello, secondo me, se coalizione o comitè internazionale può fermare Turchia, anche paesi golfi che non danno di più finanziamento, appoggio, così si può fermare questa.